Ricordatevi dei vostri volti, ricordatevi di questo gruppo parlamentare che avete ingiuriato, deriso e calugnato per anni, che avete dovuto costringere nell'angolo con le vostre chigliottine, con le vostre forzature regolamentari, con i vostri insabbiamenti di leggi importanti, come quella sul reddito di cittadinanza, come una seria legge anticorruzione. Ricordatevi di questo gruppo che vi ha fermato quando volevate mandare violante alla Corte Costituzionale o quando volevate punire i comuni italiani che combattevano le slot machine o quando volevate nominare De Luca commissario della Sanità in Campania o violentare la Costituzione con la modifica dell'articolo 138. Io vi chiedo di ricordarvi di questo gruppo perché dalla prossima legislatura in quest'aula sarà tre volte più grande e potremo finalmente fare quello che voi per quattro anni non avete mai fatto per il popolo italiano. Noi che grazie al voto palese al Senato Berlusconi l'abbiamo cacciato a calci nel deretano, presidente. Noi!